Quest'anno a completamento della collezione dell'anno scorso per nativo flu abbiamo disegnato questo specchio che si chiama Saturno l'idea è quella di cercare di dare al prodotto una finitura assolutamente artigianale ma che diventi un prodotto di produzione di massa questa finitura in bronzo è veramente una scultura fatta a mano con una finitura assolutamente artistica e questo è un po' l'equilibrio che c'è nell'innovazione italiana per cui da una parte artigianalità dall'altra parte innovazione e ricerca sul design La collezione solida o la collezione continua che abbiamo disegnato per nativo sono sviluppate su linee rette molto rigorose abbiamo voluto rompere questa idea di rigore e di linearità con questo specchio che è totalmente opposto c'è un ovale che è completamente asimmetrico e delle forme molto morbide Lo specchio è realizzato con uno stampo ma la finitura è fatta con nanotecnologie in cui c'è del metallo praticamente sciolto che viene applicato all'esterno in modo assolutamente artigianale oppure a spruzzo in questo modo noi abbiamo la struttura che è una struttura assolutamente seriale e dall'altra parte c'è invece questa finitura che dà proprio la ricchezza del materiale se si tocca è un materiale assolutamente innovativo, ricco e che dà delle emozioni positive grazie a tutti